Benvenuti a Benvenuti a Benvenuti a socialistici MediCenter Group di Roma Tiburtina, Monterotondo e Terni. Nella puntata di oggi ci dedicheremo all'approfondimento di alcune malattie cardiache e lo faremo insieme al dottor Sgreccia, medico cardiologo presso i centri NSL a Fidea e al dottor Ferrazza, medico cardiologo presso i MediCenter Group. Troppo spesso invece di affidarsi a professionisti esperti si ricorre ad internet per cercare risposte e non c'è nulla di più sbagliato che farlo in campo medico. Noi ci teniamo sempre a ricordarlo. Oggi proveremo a fare un po' di chiarezza riguardo alcune delle malattie cardiache più importanti, come riconoscerle e come combatterle. Voi restate con noi. Iniziamo questa puntata di Affidea Health Sound dedicata alla cardiologia dando il benvenuto al dottor Fabrizio Sgreccia, cardiologo aritmologo presso i centri Affidea NSL. Benvenuto ad NSL Radio TV. Grazie. Allora, lei è aritmologo, quindi a questo punto ne approfitterei per cominciare proprio dall'inizio. Cosa sono le aritmie? Allora, per aritmie intendiamo qualsiasi cosa che altera il normale ritmo cardiaco. Ma esistono diversi tipi di aritmie? Assolutamente sì. Ci sono aritmie cardiache che prevedono un aumento della frequenza e sono le tachicardie. Ci sono quelle che prevedono una riduzione della frequenza e sono le bradicardie. E poi ci sono aritmie più o meno complesse a seconda della durata e a seconda della loro complessità, possiamo distinguere, in semplici o magari maggiori. Ma questo poi lo vedremo. Ma mi ha parlato di durata. Quanto può durare un'aritmia? Un'aritmia può durare da pochi secondi, dalle semplici e banali extrasistoli a giorni interi. E quali sono i sintomi per poterle riconoscere? Allora, i sintomi sono tantissimi e possono essere dal normale tonfo al cuore, allo sfarfallio nel petto. Molti ci vengono e ci dicono, sembrava di avere una farfalla o un tremore dentro il petto. O il bel famoso battito in gola. Si ha il battito in gola, si sente il cuore in gola, nelle orecchie. O se no, addirittura possiamo arrivare alle sincopi e alla caduta a terra con la perdita di coscienza. Ecco, detto così, in realtà sono sicuro che molti di quelli che ci stanno guardando e ascoltando hanno riconosciuto questi sintomi e si stanno iniziando a preoccupare. Però quando è corretto realmente iniziare a preoccuparsi? Iniziare a preoccuparsi? Allora, innanzitutto, quando ci sono questi sintomi non bisogna mai tendenzialmente sottovalutarli, ma fare un elettrocardiogramma semplice di controllo che già da lì fa vedere se un'aritemia è presente oppure è passata. I sintomi principali ovviamente dipendono dalla gravità del soggetto, da come sta di base, qual è di base la salute del soggetto, cioè se è un soggetto che ha molte altre patologie o se ha semplicemente questa aritemia. E soprattutto le tachicardie prolungate comunque non vanno mai trascurate, così come la fiacca, quella che si dice in termini tecnico astigna, la fiacca improvvisa, anche quella dovrebbe essere controllata. Ma quali sono invece le principali cause scatenanti delle aritmie? Ce ne sono tantissime, da quelle più comuni, dalla comune arrabbiatura, dal cibo magari esageratamente pieno di lieviti che può scatenare l'extasistolia semplice, a per esempio una alterazione proprio del cuore, da una dilatazione degli atri nel caso della fibrillazione atriale, oppure a una patologia di base nel caso delle cardiomiopatie. Ce ne sono tantissime. Però quali sono i fattori di rischio principali che possono incidere sul nostro cuore? Lei prima parlava di lieviti, di alimentazione, la cardiologia è molto importante. L'alimentazione è fondamentale, l'alimentazione, i troppi caffè, lo stile di vita ovviamente molto sedentario, cosa che in questi ultimi mesi è assolutamente avvenuta, quindi le aritmie sono aumentate tantissimo e soprattutto, ripeto, controllare sempre la patologia di base. Quindi capire se c'è un qualcosa alla base e se l'aritmia magari è causata da quello. Esattamente. E a proposito di questo, lei prima ci parlava dell'elettrocardiogramma, che in genere forse è il primo esame, quello che si fa all'inizio, però quali sono poi gli esami da fare per scoprire qual è l'entità del problema al cuore? Fatto l'elettrocardiogramma di base, che già ci può dare un'indicazione, ce ne sono tanti. Allora, proprio per chiarire quell'aspetto che dicevo, quello della patologia di base, il primo primo approccio da fare, il primo esame da fare è l'ecocardiogramma, perché con l'ecocardiogramma capiamo la funzione ventricolare, capiamo se c'è una patologia di base oppure no, se c'è una dilatazione, se c'è stato un infarto, se il paziente è iperteso e successivamente e quasi contemporaneamente un elettrocardiogramma alter, che è la registrazione delle 24 ore e da lì, a seconda del risultato di questi esami, si può procedere per i vari test da sforzo o addirittura per degli studi elettrofisiologici. Ma un'aritmia può portare all'infarto in quanto tempo? Se c'è un'aritmia ventricolare su un cuore che è malato, in brevissimo tempo, assolutamente. Esiste una fascia d'età che è particolarmente interessata da questa patologia oppure è una patologia diciamo... Allora calcoli che le eritmie cardiache possono comparire dai 3 anni fino ai 90, è chiaro che a seconda delle eritmie cardiache abbiamo una fascia d'età più interessata, l'esempio banale è la fibrillazione atriale, il 10% della popolazione italiana di sopra dei 70 anni ha perlomeno una volta affrontato il problema della fibrillazione atriale. Per quanto riguarda le extrasistorie semplici, tutta la popolazione può avere questo tipo di problema e ci sono poi un capitolo a parte le eritmie, quelle patologiche che vengono da via anomale che sono presenti nel cuore, tachicardia da rientro, sindrome di Wolf-Parkinson-White e anche lì è un capitolo che può comparire a qualsiasi tipo di età. E noi qui parliamo sempre e spesso dell'importanza della prevenzione, esiste una fascia d'età nella quale invece è importante fare dei controlli? Allora chiaramente le persone dal di sopra dei 60 anni, 65 anni dovrebbero aumentare i controlli perché prevenire per esempio la fibrillazione atriale può prevenire per esempio l'ictus. E invece in caso di aritmia conclamata, quindi di una patologia ormai riconosciuta, come si interviene? Quali sono le terapie più adatte? Allora se c'è una patologia di base va trattata sì l'aritmia ma soprattutto la patologia di base, per esempio se c'è un infarto va trattata un'ottima terapia per l'infarto e il controllo della frequenza per quanto riguarda la fibrillazione atriale. E quando invece è necessario assumere farmaci anticoagulanti? Cioè non ne abbiamo ancora parlato ma in realtà quando si parla di cardiologia si parla sempre di fumo e noi sappiamo anche che il fumo forse è anche una delle prime cause di problemi a livello cardiaco perché quello che magari meglio se lo spiega lei, qual è il problema che il fumo può portare sulla coagulazione? Allora apriamo il capitolo della coagulazione, è un capitolo enorme. Diciamo solo che la fibrillazione atriale ha un tipo di prognosi che se trattata con l'anticoagulante è una prognosi assolutamente benigna. Se non trattata con l'anticoagulante ha una percentuale di ictus per caso di fibrillazione atriale che può anche sfiorare il 10%. Quindi avere la fibrillazione atriale significa automaticamente avere il trattamento con l'anticoagulante. Esistono adesso dei nuovi farmaci anticoagulanti che vengono dati senza il controllo come avveniva fino a qualche tempo fa nel passato del sangue, dell'INR che si andava ogni 2, 3 giorni, 5 giorni a fare il prelievo delle analisi del sangue. Adesso ci sono questi farmaci che vengono dati secondo determinati scale di rischio e che hanno aiutato sicuramente la prognosi della fibrillazione atriale riducendo notevolmente sia l'incità degli ictus sia l'incità dell'emorragia. E quanto complica il quadro generale il fumo? Il fumo complica tantissimo il quadro generale perché il fumo è uno dei fattori di rischio modificabili. Il fumo, come lo stile di vita, come la caffeina, come il controllo di tutti gli altri fattori di rischio modificabili sono tantissimo, molto predisponenti alla fibrillazione atriale. Noi qui cerchiamo sempre di dare delle spiegazioni semplici. Lei chiaramente ha parlato di fattori di rischio modificabili e si capisce. Nel senso sono quelli che possiamo eliminare. Possiamo decidere dall'oggi al domani di smettere di fumare le sigarette. Ci sono anche dei fattori di rischio non modificabili. La familiarità. La familiarità, ad esempio, non solo nelle aritemie ma nella cardiopatia ischemica. La familiarità uno non la può modificare, la può cercare di prevenire adottando uno stile di vita corretto, non fumando, avendo una moderata attività fisica che non significa per forza la palestra ma anche significa la camminata veloce, controllando il colesterolo, i tecliceriti. Quali sono le percentuali di familiarità di queste patologie? Variano tantissimo. Ripeto, basta considerare il 10% delle persone sopra 70 anni che hanno a che fare con la fibrillazione atriale. Quindi diciamo che è una delle patologie più frequenti nel mondo. Abbiamo detto che in caso di aritmia conclamata si può procedere con una terapia farmacologica. Assolutamente sì. Esistono però anche dei casi più gravi che richiedono un intervento chirurgico? Sì, assolutamente sì. Abbiamo vari tipi di intervento chirurgico. Abbiamo per esempio le bradi aritmie, quelle che prevedono una riduzione dei battiti cardiaci. Quando classicamente la frequenza arriva a 20-30 battiti al minuto incompatibile con la vita viene impiantato un pacemaker che può essere di vari tipi, mono, bicamerale o anche biventricolare. O nelle aritmie ventricolari, quelle che possono causare la morte, che vengono nelle persone che hanno una ridotta funzione del cuore. Al di sotto di un certo valore di fazione eiezione, che è il 35%, vengono impiantati dei defibrillatori. Quelli non solo stimolano ma anche trattano questo tipo di aritmie ventricolari. E poi abbiamo il capitolo delle ablazioni. Le ablazioni sono quelle terapie che vengono eseguite su aritmie come il Wolf-Parkinson-White o la tachycardia da rientro e prevedono tramite dei cateteri che vengono inseriti, tramite la vene femorale, una piccola bruciatura a livello di questa doppia via che è presente all'interno del corpo umano. Allora, penso ai tanti telespettatori che ci stanno guardando, che ripeto, sentendo tutti questi sintomi, in qualche modo già non si sentono molto bene. E penso a tutte quelle persone che passano la loro vita misurando la pressione arteriosa in continuazione. Quanto una misurazione arteriosa, diciamo fuori dagli standard, può essere un segnale di un'eventuale aritmia? Allora, la pressione arteriosa, in genere il problema nasce con gli apparecchi elettronici. C'è soltanto un apparecchio elettronico che è stato approvato in persone che hanno la fibrillazione atriale. Perché il problema degli apparecchi elettronici è che spesso nelle persone con fibrillazione atriale non danno delle misurazioni attendibili. Bisognerebbe fare la misurazione manuale. E per concludere, per chiudere questa chiacchierata insieme, si può guarire dall'aritmia o è una patologia con la quale bisogna imparare a convivere? Nella stragrande maggioranza delle aritmie, per la stragrande maggioranza delle aritmie, si può assolutamente guarire. Ci sono le aritmie come la fibrillazione atriale, per le quali ci sono i farmaci anticoagulanti per primo. E poi si può fare o il trattamento della frequenza, quindi controllare la frequenza, senza ripristinare il ritmo normale, o ripristinare il ritmo normale con altri farmaci. Ma assolutamente sì. Dottor Sveccia, io la ringrazio per essere stato con noi qui ad Affidea il Sound. Grazie a voi. E ringraziamo ancora il dottor Sveccia, aritmologo presso i centri Affidea e NSL di Roma e diamo il benvenuto ad Affidea il Sound al dottor Paride Ferrazza, aritmologo, quindi anche lui cardiologo, presso i MediCenter Group di Roma. Benvenuto ad Affidea il Sound. Grazie, grazie, salve a tutti, grazie per l'invito. Allora, dottore, con il suo collega abbiamo parlato di aritmie cardiache. Però invece con lei farei un discorso un po' più generale. Cioè, quali sono le principali malattie cardiovascolari? Allora, beh, un discorso molto ampio, un grosso capitolo di patologia cardiovascolare che interessa principalmente i vasi del cuore, quindi le coronarie, ma che coinvolge i vasi di tutti i distretti corporei. Consideriamo fondamentalmente anche i vasi del distretto cerebrale, insomma, e quindi il risultato di patologie importanti come infarto e miocardio per quello che riguarda la circolazione cardiaca o ictus cerebrale per quello che riguarda la circolazione, appunto, a livello cerebrale. Dottore, io in realtà la fermerei un attimo e le chiederei, perché spesso si dà per scontato, ma vogliamo spiegare bene cosa sono le coronarie? Le coronarie, le arterie coronarie, sono i primi rami che partono dalla orta e che vanno ad irrorare il muscolo cardiaco. E sono quei vasi che, una volta che si ostruiscono, in qualche modo sono la causa di quello che comunemente viene chiamato infarto? Assolutamente sì, nel senso che l'ostruzione a livello delle coronarie comporta un minore afflusso a balle, quindi un minore nutrimento del muscolo cardiaco, una sofferenza delle cellule, fino alla morte delle cellule. Ovviamente, quindi poi a quel punto si parla di infarto, ma invece quali sono le cause principali delle malattie cardiovascolari? Allora, cause principali sono tantissime. Possiamo praticamente considerare, partire da fattori di rischio e cause legate ai nostri comportamenti, comportamenti intendo sia quelli dietetici e quindi un aumento del consumo di alimenti che possano incrementare i valori di colesterolo a livello del sangue, il fumo di sigaretta, la sedentarietà, e ovviamente tutti quei fattori correlati a questo. Ci sono poi appunto la familiarità, quindi avere in famiglia persone che possono aver avuto problemi cardiologici, le aritmie di cui avete parlato con il collega, il dottor Sgreccia, l'ipertensione arteriosa, il diabete mellito e anche valvulopatie, cioè problemi delle valvole cardiache. Ecco, ovviamente per ognuna di queste patologie ci sarebbe da fare un'intera puntata per cercare di spiegarla un pochino meglio. Andiamo più o meno per quelle che sono invece le patologie più conosciute, ma magari meno note. Cioè spesso si sente parlare di un qualcosa, ma poi si ricorre a internet per cercare di capire di cosa stiamo parlando. Lei ha detto diabete mellito. Ci può fare una differenza tra il diabete, diciamo la forma classica e quello mellito? Allora, non esiste una differenza tra diabete forma classica e diabete mellito. Esiste una differenza di diabete tipo primo e diabete tipo secondo. Il diabete tipo primo, anche detto diabete giovanile, colpisce soggetti più giovani, il diabete tipo 2 invece soggetti più grandi di età, che va praticamente ed è influenzato proprio da un alterato metabolismo a livello glicemico e con tutte le conseguenze con praticamente l'aterosclerosi che va a danneggiare i vasi. L'aterosclerosi è proprio il momento in cui il vaso inizia ad ostruirsi e quindi a far sì che il flusso sanguigno avvalle diventi minore e quindi ci possa essere la sofferenza dell'organo. Ecco, come ha spiegato perfettamente prima alcuni fattori di rischio, cioè alcune abitudini che noi abbiamo possono complicare la situazione cardiovascolare nel paziente sano e ancora di più magari nel paziente che già soffre di qualche patologia. Tra poco con lei continueremo questo discorso, però è il momento di fermarci un attimo e poi torniamo di nuovo qui su NSL Radio TV. Grazie. Ben tornati ad Affidea Health Sound. Siamo in collegamento via Skype con il dottor Paride Ferrazza, cardiologo presso i MediCenter Group. Con lui abbiamo parlato dei rischi, diciamo, dei fattori di rischio che ci possono essere nelle malattie cardiovascolari. La domanda per lei a questo punto però, dottore, il rischio cardiovascolare è un rischio reversibile? Allora, dipende da alcuni tipi di fattori. I fattori di rischio alcuni li possiamo distinguere in fattori di rischio reversibili e fattori di rischio irreversibili. Parliamo prima, anzi, parliamo prima dei fattori di rischio irreversibili, o meglio non modificabili, che sono quelli legati al sesso, all'età del paziente, perché il sesso maschile ha un maggior rischio di ammalare di infarto, cioè di avere un infarto. Ovviamente più si è grandi, quindi più è grande l'età e più c'è possibilità di avere un infarto, perché ovviamente la terosclerosi è una malattia dell'età adulta. E poi ci sono i fattori di rischio invece modificabili, che sono appunto quelli legati ai livelli di colesterolo, ai livelli di glicemia, alla sedentarità, all'abitudine tabagica, quindi al consumo di sigaretta, alla alimentazione, quindi al consumo per esempio di pesce per introito di Omega 3, che deve essere almeno due volte a settimana, e il controllo del peso corporeo, perché l'obesità è un altro fattore modificabile delle malattie cardiovascolari. Prima della pubblicità lei ci parlava anche effettivamente della familiarità, cioè praticamente se c'è in famiglia qualcuno che ha questo tipo di problemi, c'è una buona possibilità che anche gli eredi possano avere gli stessi problemi. Ma qual è più o meno la percentuale? Allora, guardi, la percentuale è una percentuale variabile, stiamo parlando di numeri che variano di ogni quinquennio, stiamo parlando di percentuali importanti, perché chi viene da una famiglia in cui c'è ipertensione arteriosa, diabete mellito, è molto facile, con una buona percentuale, anche oltre il 50%, possa poi avere probabilità di sviluppare ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipercolesterolemia e quindi aumentare il proprio rischio cardiovascolare. E rispetto ai fattori di rischio, quelli reversibili, quali sono le abitudini di vita che un paziente o comunque anche una persona che magari sta bene, però farebbe meglio a modificare per ridurre poi il rischio cardiovascolare? Guardi, prima di tutto l'esercizio fisico, perché l'esercizio fisico ha influenza sulla pressione arteriosa, ha influenza sui livelli di colesterolo, ha influenza sui livelli di glicemia e ovviamente appunto il peso corporeo diminuisce con l'esercizio fisico, aumenta il metabolismo e quindi tende a diminuire il proprio peso corporeo, quindi il rischio di sviluppare quella che si chiama la cosiddetta sindrome metabolica. Quello che però le vorrei chiedere, perché ormai in questo periodo, soprattutto in cui le palestre vanno particolarmente di moda, che tipo di esercizio fisico bisognerebbe fare? Cioè vanno sempre più di moda i cardiofrequensimetri, i contapassi, quanto realmente è importante questo? E quindi, ripeto, qual è il tipo di esercizio più utile per ridurre il rischio cardiovascolare? Allora, intanto è importantissimo il controllo della frequenza cardiaca durante l'esercizio, che molto semplicemente va fatto come conto sottraendo a 200 il valore della nostra età, quindi poniamo il caso che abbiamo un soggetto di 50 anni, 200 meno 50 fa 150, quella la frequenza cardiaca massima e bisogna raggiungere per allenare il proprio cuore. Questo significa praticamente che tutti gli esercizi aerobici che ci permettono cioè un costante allenamento muscolare sono quelli adatti a prevenire le malattie cardiovascolari. E mi scusi, le faccio le vie altre? 220, scusi ho detto 200 ma 220. Ah ok, 220, va bene, quindi 220 meno l'età del paziente in questione. Meno l'età del paziente. E quando invece durante l'esercizio fisico si arriva ad una soglia superiore? È comunque qualcosa che può far bene? C'è un limite? Cioè da un punto di vista cardiologico, quando sarebbe bene fermarsi? Quando è che ad un certo punto bisognerebbe accendere un allarme? Allora, intanto prima di tutto se si arriva molto facilmente a quella che è la frequenza massima. Non bisogna mai superarla perché non diventa più un esercizio allenante, ma diventa un esercizio stressante, cioè andiamo oltre quelle che sono le nostre capacità funzionali. A quel punto bisogna ovviamente cercare di effettuare un controllo cardiologico per capire se è una questione legata a un allenamento non congruo o effettivamente a un qualcosa che sta disturbando il nostro cuore. Ci si ricollega alla comparsa delle aritmie sempre di cui avete discusso il collega. Assolutamente. Un'ultima domanda prima di lasciarla e cioè quando è bene per un paziente anche magari sano per una corretta prevenzione sottoporsi alla visita cardiologica e soprattutto quanto è importante il check up cardiologico? Allora, i controlli sono sempre importantissimi. Io dico sempre ai miei pazienti è meglio un controllo in più piuttosto che mantenere un dubbio. Ovviamente soggetti oltre i 40 anni è giusto che facciano un controllo cardiologico almeno una volta ogni due anni considerando se fanno un esercizio di tipo medio. una volta all'anno se frequentano la palestra e quindi devono fare il certificato quindi fare un elettrocardiogramma, un tracciato di base, una visita cardiologica è giusto farla un anno. Parliamo poi di tempi diversi per tutti coloro che fanno prevenzione quindi in accordo con il proprio medico di medicina generale e con il cardiologo di fiducia i tempi possono ridursi a 8 mesi, a 6 mesi o addirittura 4 mesi a seconda delle esigenze del paziente. Dottor Ferrazza, io la ringrazio per la sua disponibilità e la sua chiarezza e per essere stato con noi qui ad Affidea Health Sound. Ringrazio voi della pazienza con cui mi avete ascoltato, vi auguro un buon proseguimento. E allora con l'intervista al dottor Ferrazza si chiude anche questa puntata di Affidea Health Sound da Antonio Versano e Noemi Pierini, appuntamento alla prossima sempre qui su NSL Radio TV. Grazie a tutti!